Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, rivelate tutte le carte e adesso andiamo a fare l'analisi vera, quella proprio per vedere se effettivamente ne vale la pena oppure no dopo ieri sono veramente distrutto, ma vediamo che cosa ci proporrà questo team prima di iniziare, come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al personale per avere sempre aggiornati ricordo che l'iscrizione c'è tantissimo, io vi ringrazio, come sempre vi lascio un link fantastico in descrizione per ordinare il set ovviamente con il codice sconto e il link, affidato possono trovare il link, aiutate il canale detto ciò partiamo e ovviamente non posso che essere come sempre il più onesto con voi allora intanto al momento ho la scienza schermata perché mi serve vedere la rarità poi facciamo il generale, il generale questo è figo, il drago bianco è figo, effettivamente quarter è figo i pezzi di exodia allora io mi posso dire che ci stanno nel senso exodia quarter è figo però hanno messo ad essere non setter e i pezzi in un'altra parte e i pezzi in un'altra parte è qualcosa di legno tun, anima abbandonata queste sono tutte quarter, capro, ragazza, magandina, tributo, cannone, congegni, sigilio, ricalco, skilt, kirfrid, curipo, wake up, aperto, apertura carbanco, rubino, fortezza, yubel, drago, lucio, oscurità, vabbè ci posso stare arcidamore, drago rosso, ido, ultimo head-solking, drago allineri, blazar assel sincro, doppio utopia, numero 15, burattino, giga distruttore alzarango, scuolo bamut, f0, movimento assoluto ma cos'è, c'è veramente per quanto poi possono essere utili hanno messo 3 edge gigante ingranaggio, antico caos rosso tiranno, sifer ragno link, trucca stella vabbè, lasciaste, trickster, manco ne stanno i supporti vabbè, manchera dopo borreload cazzella e parallele exit per chiudere le quarter ci sono delle cose interessanti delle cose interessanti già tipo wake up magari relinquish anima come carta non è male ultimo head-solking blazar rachel f0 ci può stare movement arcidamore drago rosso il resto il resto passiamo alle secret tra l'altro io ho visto anche gli opening e non pensavo che ci potesse essere un pool veramente basso anche lì e sono rimasto veramente sorpreso cioè perché dico di solito vabbè comunque vuoi non vuoi culo non culo qualche cosa debbono si trova eh madonna santa il devasto il devasto cioè voglio dire i token i grandi e reprensibili token porco giuda lasciamo stare poi ragazza maga nera il drago nero vabbè le artwork alternative l'avevo detto ci potevano stare benissimo come si ecco questo io ve l'avrei messo in quarter al posto di un po' di monnezza effettivamente col senno di voi quarter al posto di un po' di monnezza ci potevano benissimo stare questa io l'avrei uomo alato neo c'è della roba c'è della roba imbarazzante c'è della roba imbarazzante contatto preferito iscrizione custodio ecco questa capo di fa ultra l'hai fatta secret serve a niente rice art secret cash tira secret ground minolo e vabbè queste sono tutte carte che potenzialmente potevano fare ultra per incicciottire il set se le facevano ultra per incicciottire il set mettevano altre secret mi devo dire sarebbe se che cavolo me lo riproponi e che cacchia trova questa cioè è incredibile che le stampe costeranno uguali a quelle quasi uguali a quelle che già ci stanno perché c'è voglio dire c'è orgoglio toro leon secret wakaoshi secret run secret questa non ha trovato nessuno riuma heart secret riga worm secret ma io non ce posso credere cioè se io apro un tin mi trovo wannabe è un token sto a ridere per impiagno perché ormai ah c'è santifuoco c'è santifuoco assoluto vizioso vedete che comunque il morganite secret non ce la posso vedere cioè di roba secret importante c'è il problema è stata contornata da fuffa incredibile gold pride cioè gold pride c'è manco c'è manco c'è stanno nel meta non ce sa quanto nightmare magician secret ita armitala l'arts ma che cavolo vabbè musè armamento fusione questa tutta roba poteva essere benissimo si è ultra sui si cioè ah c'è questi vabbè per realizzare il set ma falli ultra ultra ci stanno ultra ci stanno c'è una maniera demonnezza ultra questi ultra ci stavano bene non avrei detto niente ma pure drago poco nero che a me piace ma secret no banshee secret ma stiamo scherzando spadaccino guerriero l'ottame secret spadaccino fu combattente secret vabbè a me ci potrebbe restare queste xeno adesso chiema roccia centurion dragon di tente teia e volum allora c'è un botto di roba secret che se la facevi ultra e riducevi tipo non so deducimento carter set e ti dicevo minchia una bomba melfi cavaliere gemma melfi sushi vabbè questa è tutta roba giusto lui ci sta contatto istantaneo a fusione speriamo che questa volta il testo sia scritto bene che ci sia loris ma che cazzo l'avvocatore galattico potete fare comune veramente strega del caos uno di questi da pure bellini questi ultra in mezzo alla variata trovolante c triplicata mi puoi fare cassino la ultra fantasma mi sei su amurai che manco si giocano più mandagli un main pop mi puoi fare questi ultra va bene dici rarizzare ma metti qualcosa che ci ha senso ma queste ultra non servono a niente kotol si va bene c'ho vabbè questo non c'è cazzo è ultra vabbè bello c'ho chimera tuttoralizzato eh bello funzionava bene pure senza la realizzazione come come dicevo la roba interessante qualcuno c'è ma se riducevano appunto il numero di set cambiavano determinato cioè che cazzo ci fai con questo ultra cambiavi qualche cosina questi ci stanno questi ci possono stare cioè se uno li trova dice vabbè comunque dicevo c'è della roba secret che poteva stare ultra benissimo se toglievi 200 carte veramente perché ci sono un sacco di robe che non servono a niente questa è ultra carina vedete comunque della roba che dico che non è male c'è ma cavolo c'è troppa roba fuffo troppa e come appunto sto cercando di dire cioè della roba che secret non ci sta per niente ma ultra ci stavano veramente benissimo se riducevi il numero di carte stai a posto perché hai messo un botto di carte che non servono a niente e che al momento nessuno sta giocando hai messo ultra pure questi qua c'è non me ne metti due e tre ancora una volta si mi resta un po' di 300 volte famole ultra si va bene va bene e andiamo a vedere le common le common le common e che li dividi queste sono common non è poi fa tanto la fine che come non so meglio te questa guarda bestia del caos è già meglio quella che abbiamo visto è già meglio quella che non è la mare c'è ribaltamento della terra non serve a niente carte riempitive delle carte riempitive dei set normali questo mi ricordo che fa profilità almeno come artwork come vado leggere sono troppo amareggiato per questa roba e come sono meglio delle ultra le ultra veramente lasciando qualche cosa sono completamente quasi da buttare anche perché tra pull bassissimi pull bassissimi carte fuffa carte riempitive anche secret che veramente non servono a niente non servono a niente c'è uno che deve fare potere pillola vabbè cannone coro piccola c'è mi ha messo piccola zuffa ufoluce tarai de origami questo è in realtà carino buscili immortali fuga capra espiatori ne avevo veramente bisogno di questa ristampa incredibile allora che cosa dire che cosa dire eeeh e c'è stanno 200 carte inutili più o meno secondo me se il team fosse stato fatto come ho detto togli meno carte cioè togli tante carte togli tanto carte lo riduci a un bel po cambi determinate rarità perché alcune secret sono imbarazzanti le ultra sono tutte fuffa qua tralasciando tre carte più o meno le ultra sono tutte fuffa le quarter alcune sono buone alcune sono inguardabili quindi togli quelle inguardabili cambi delle secret in ultra riduci il numero di set e c'hai un team che ti devo dire molto dignitoso molto devo dire fatto relativamente bene proviamo a manetta pieno di secret incredibili qui io invece vedo quello che ho visto carte che non si troveranno mai cioè penso che per trovare sp devi prendere 50 tin ok token secret dentro le carte trovabili e lì io impazzisco io li impazzisco poi artwork che alternative come ho detto secret ci possono stare se le mette uno ultra e morale del video sta riducendo il numero che è carte che non si giocano da un botto ristampate wannabe cioè wannabe secret dovrebbe essere tipo riassunto del team wannabe secret doveva essere riassunto del team ma io posso aprire un team e trovo wannabe lasciarmi un token posso di secret poi le quarter le ultra manco i nomino perché fanno tutte schifo cioè voglio dire cioè veramente cioè di ultra sono tutte per realizzare ok però vuoi mettere qualche cosa decisi cioè non è possibile non è possibile allora è vero è vero che è la più grande scammata dell'anno ma io non so neanche se è vero che è la più grande scammata di sempre cioè non veramente io l'unica cosa che posso consigliarvi se proprio lo volete prendere di prenderne uno e tenerlo per collezione e basta prenderne uno giusto per avere il tin che comunque di superficie è figo una scatoletta figa ma io non vi consiglierei adesso ora comunque mai di piarlo piatevi quello che vi serve e via cioè guardate i prezzi perché effettivamente se tindem non vengono presi potrebbero comunque assestarsi relativamente alti quindi al massimo vedi quando prenderne uno il resto non vale la pena pure le quarter se volete determinate quarter che non costino troppo e andate a prendere quello cioè per dirvi exodia tutto intero quarter è figo il drago bianco è figo l'alinquicida anima è molto interessante queste non hai una premessa non ci servono i congegni ma hai una vita il sigillo soggettivamente mi piace però non è che fosse una grande carta che ti serviva questa non c'ha senso anche perché ormai è limitata garbancol carta iconica di jesse anderson bello 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 draghetto squalo perché esce l'espansione nuova no sicuramente lo giocherai il numero 32 lo giocherai sicuramente ma pure se non giochi cioè vai a prendere 50 centesimi quella comune al limite quella star foil proprio se cioè vabbè per l'euro vai a prendere quella water certo però non voglio dire non c'è questa grandissima utilità poi che era quell'altra grande secret che mi aveva fatto incazzare aspetta andiamo a ricercarla eeeh c'è ma organite cold pride c'era una grande secret che mi aveva fatto incazzare però ora come ora non mi sovviene non riesco a ritrovarla non riesco a ritrovarla certo veramente vita no no per me è completamente bucciato c'è della roba interessante ma so tipo 20 carte su 400 cioè le potremmo anche andare a contare quelle relativamente interessanti eh facciamo 1 2 3 fine 4 ma costa 50 centesimi 5 facciamo 6 jubel 6 7 8 9 10 queste vanno a gradimento insomma poi 11 questo è interessante 12 13 14 facciamo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 forse anche lui 24 perché comunque la solito un po' di prezzo 25 26 27 questo tanto già costava poco quindi 28 pari a sub facciamo 29 30 31 perché queste si trovano 32 vogliamo mettere anche la Mikanko facciamo 33 34 col Trident 35 con lei 37 37 azura 38 questo 39 anche se in realtà non si gioca un cazzo e queste sono tutte reperibili a zero sostanza quindi c'è manco 40 carte per dire su 400 c'è un decimo delle carte che chissà se troverai come troverai quando le troverai quindi niente penso sia la più grande scamada dell'anno sicuramente di tutto yuki forte forte quindi niente a lei mi deve avere consiglio uno e basta non ci è sprecato i soldi no è un terno all'otto troppo grosso il prezzo non ne vale il gioco non vale la candela detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti